In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse un censimento in tutta la tempo. Giuseppe, era della casa di Davide, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata per lei, insieme a Maria, sua sposa, che era in città. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del Padre. Una stella grande comparve nei cieli d'Occidente per indicare agli uomini di buona noventà il luogo dove Gesù nasceva. Grazie. 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 Maria, poiché si era compiuto per lei il tempo del parto, diede alla luce ilfilio suolo, lo facciò, e lo pose a giacire in un adaggiatore, poiché non v'era posto per lei di Giuseppe. Quello di Dio casa sólo a wegen di lavori, di gero... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.